Silvia crea disegni da indossare. Come fa? Lo scopriamo insieme dopo la sigla. Ciao, mi chiamo Silvia e da circa due anni ho cominciato a dare sfogo alla mia passione, aprendo la mia pagina. Sono sempre stata una disegnatrice silente, ho sempre dato priorità ad altro, tralasciando un po' quello che sentivo dentro di me, i colori, la fantasia, il creare e il dipingere. Lo facevo in sordina solo quando avevo tempo, poi ad un certo punto qualcosa è scattato, i miei bambini stavano diventando grandi e io forse avrei potuto usare. È nata così la mia pagina, dalla mia voglia di esprimere emozioni che stavano esplodendo dentro la mia testa. Ci ho messo tutta me stessa e finalmente ho fatto il passo. Lei si chiama Cuore Dipinto Bijou, disegna questi gioielli che sono veramente bellissimi, originali e singolari. Io ve li presento nella gallery e vi auguro intanto un buon inizio di settimana e ben ritrovati su Scriviamo Insieme e su Raccontami il tuo hobby. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao da Anna e da Scriviamo Insieme. Ciao! Ciao!